Mi sono accorta che sto bene solo quando sto con te Ma so che questo non va bene, non va bene È sempre di domenica Ed eccoci, televisione, radio, il Global per esempio Come no, insomma tante cose, artefice della mia non barba Guardate un po', guardate un po' Ma che sera, questa sera, io mi sento così bene Dai facciamo qualche cosa, io e voi Ma che sera, questa sera, mare calmo, luna piena Dai facciamo qualche cosa, io e voi Ma che sera, questa sera, ma non vedi com'è bella Dai facciamo qualche cosa, io e voi Ma che sera, questa sera, non mi sembra neanche vero Tutti insieme, questa sera, questa sera, ma che sera Signore, signori, ecco a voi Fabio Brescia Ma grazie, ma che bel video, ma che bel montaggio Quanti anni? Di carriera? Eh, sono 53 di vita, ho cominciato a 19 Un bel po' Ho fatti due conti Che bel, quanto ti sei divertito? No, mi sono divertito molto, devo dire Mi sono divertito molto, mi sono anche stressato tanto Però sicuramente mi sono divertito molto Cioè, voglio dire, per essere uno che non aveva scelto di fare questo lavoro Mi è andata più che bene, nel senso, no? Assolutamente sì Se ne sono tanti che bramerebbero la metà di quello che abbiamo fatto noi E magari lo volevano proprio tanto, tanto, tanto Io, tutto sommato, non pensavo, nel senso proprio Io stavo studiando altro, quindi non... Tu volevi fare il traduttore Io volevo fare l'interprete parlamentare, tu pensa Pensa un po' Cioè, sì, infatti per quello conosco le lingue Quindi studiavo l'inglese, il francese, lo spagnolo Perché volevo fare quel lavoro lì Dopodiché poi qualcuno, che è Geppi Gleieses Al quale oggi sono molto grato Ogni volta che ci incontriamo da qualche parte Cioè, è tutto colpa tu, è tutto colpa tu E lui ride Decise che secondo lui io ero nato per recitare E poi da lì la radio, la televisione, i libri, il cinema Tutti pomeriggi alle 16 su Radio Kiss Kiss Bastardi Gli scherzi telefonici Ormai sono 18 anni che faccio questa trasmissione Tra una radio e l'altra Sono 5 anni quasi su Kiss Kiss Napoli Da poco sono usciti i dati d'ascolto Siamo vincenti e siamo molto contenti Che dopo tanti anni E siamo vincenti In questo caso siamo Perché io ti ringrazio per avermi accolto in compagnia Anche a teatro Siamo vincenti Siamo al teatro Ma io ormai ti ho accolto molto più che in compagnia In realtà ci siamo accolti Perché lui mi scopò tanti anni fa per una sua trasmissione televisiva Mi chiese un'intervista Io andai e da lì poi è nato questo sodalizio Per il quale lavoriamo spessissimo insieme Ma guarda io ero proprio all'inizio E mi ricordo con molto affetto questo momento Perché fu l'unico Fabio Brescia ad arrivare in trasmissione Si fece la sua intervista Poi si mise lì seduto Ma dove erano le cose O fammi vedere chi sa dove arriva O dove erano Mi rimase lì fermo E apprezzai molto Mi sembrava educato Continuare a stare lì C'è poca educazione nel nostro abito Sì C'è pochissima buona educazione nel nostro mestiere E soprattutto c'è pochissima Come dire Possibilità di misurare le proprie capacità Lo faccio io? Lo posso fare chiunque Lo fai tu? Lo può fare chiunque Non è esattamente così Tu sei molto social E noi abbiamo preparato un po' di cose Sono socialissimo Madonna Ma qua avete preso una foto del paleozoico Qui poi sembri anche un po' Luca Tomassini C'è chi dice George Michael È vero Con tutto il rispetto per Luca Tomassini mi piace di più Però questo è un servizio fotografico Che ho fatto per il mio secondo CD Perché non mi sono fatto mancare niente nella mia carriera Queste sono foto del bravissimo Fabio Oliva E scrivi anche Scrivi Mi faccio tenerezza guardandomi 25 anni fa Sapere che buona parte dei sogni che avevo allora li ho avverati Mi rende molto contento di me Ma più che essere felice per ciò che ho avuto Sono estremamente fiero dell'uomo che sono Sì, sì, questo è vero Però l'uomo che sono lo devo soprattutto a mio padre e a mia madre Quello senza dubbio Quello che siamo è sempre nelle nostre radici No? Noi, come siamo cresciuti, l'educazione che abbiamo avuto I valori che ci hanno insegnato La disciplina anche Sicuramente anche i padri artistici Hanno un'importanza fondamentale Ma quando io sono giunto a fare questo lavoro con nomi altisonanti Che nella mia ignoranza io non sapevo neanche chi fossero tante volte E' chiaro che se tu arrivi con una preparazione di base ai valori e alla vita E' tutto un po' più in discesa Assolutamente sì Però poi si vuole anche l'intelligenza Eh beh certo Quella è Quella grazie a Dio insomma Ecco insieme a tante cose che tuo padre e tua madre ti hanno sicuramente inculcato Andiamo avanti Che dico? Ancora un'altra bella E dici se mi sognerai Mi piace Twitter a voi Se mi sognerai No, questo è Instagram È Instagram Perché tu poi su Twitter sei un po' più Sono un po' più politico Eh invece Sono un po' più polemico su Twitter Se mi sognerai cadrò dal cielo, ti culerò tutta la notte Ascolterò il tuo respiro, bacerò i tuoi capelli Mi farò piccolo e leggero in modo da appoggiarmi sul tuo petto E ascoltando il battito del tuo cuore sognerò con te Ma che romantico, ma al tuo risveglio non ci farò Mi avrei solo la notte perché ho paura dell'amore Possiamo diventare una persona sola tutte le sere Ma la mattina lasciami volare libero Lasciami viaggiare nella mia spensieratezza Sognando l'attesa di un'altra notte con te Questa è un po' l'essenza del mio essere Io adoro la solitudine Io amo la solitudine Siccome ho una grande stima di me Sto benissimo da solo Sto una meraviglia E siccome credo che i rapporti umani Debbano essere sempre un accrescimento e mai un limite Ritengo in qualche modo che spesso Per paura della solitudine si facciano degli errori enormi Allora invece quando si impara a stare da soli Poi ti godi anche la compagnia Limitata al tempo che tu decidi che sia E però poi c'è la paura dell'amore La paura di non trovare una persona all'altezza O la paura anche di soffrire La consapevolezza di non riuscire a trovare una persona all'altezza Non la paura Consapevole che insomma E no oggi alla mia età sto tranquillo Sto bene poi per carità Domani mi arriva la trambata Chi lo sa Però diciamo che ho dato tanto E va bene così Ora sono concentrato molto su di me Stiamo facendo tante cose belle Progetti importanti Mi vivo la mia vita In maniera molto serena Senza distrazione Bravo senza distrazione La parola esatta Vediamo vediamone un'altra Sempre Instagram Cogli l'opportunità di imparare dai tuoi errori Non essere così cociuto da credere che non li farai Non cercare di essere sempre perfetto Perché nessuno lo è Sì semplicemente un buon esempio Per chi ti sta intorno Ama le cose che fai E si felice Sì se ti dico dove stavo è qua Non lo so se lo posso dire a quest'ora della domenica La gente sta pranzando No diciamolo No ero a casa di una mia amica porno star Ecco Sì a Londra Ah e lei c'ha proprio Sì lei si chiama Eva Eva Robbins No E non fa mica la porno star Eva Robbins No scusami Sì no Scusate Adesso E' un'esperetto amica No la conosco La conosco ma non siamo amici Eva Paradis Ah ok E invece una splendida attrice porno che oggi vive a Los Angeles E quando viveva a Londra io avevo le chiavi di casa sua E lei mi ospitava sempre E questa è la sua camera da letto dove io dormivo Lei non c'era era in America E io andavo lì e mi facevo queste foto Perché io poi sono Tu non sai che Ma lo sai in realtà Io sono il cintura nera di selfie Sì Perché questo è un selfie Io faccio solo foto da solo Nessuno mi scatta le foto Faccio tutto da solo Cioè trovo i posti per poggiarli Anche quando proviamo con le dirette Fai delle cose assurde Sì sì Io sono proprio cintura nera Sì E questo è una C'è tanto da imparare in questa In questa tua frase Ma sì ma gli errori Ma insomma bisogna smetterla di avere paura di sbagliare Bisogna sbagliare Farsi attraversare dagli errori Senza i quali non c'è crescita Senza i quali non c'è consapevolezza Ma viva Dio che ci sono gli errori Solo attraverso gli errori si può aggiustare la rotta E si può poi No Quindi non c'è nessun errore Imperdonabile Assolutamente no Non c'è nessun errore imperdonabile Questo te lo dico con la testa Col cuore Meno Però non c'è nessun errore imperdonabile Quindi c'è qualcosa in fondo al cuore Che insomma proprio non rifareste Eh sì Beh ma ti posso fare un elenco Che finiamo domenica prossima Di cose che non rifarei Ma io sono la persona che sono Solo attraverso tutto quello che ho fatto Errori compresi Quindi Sono d'accordo C'è fuoco da fare Vediamone un'altra Errori Ecco qua Semplicità Sì Semplicità è che la mia parola d'ordine Semplicità che da sempre mi contraddistingue Allora ti dico Questa parrucca me l'ha fatta Fabio Che è Crazy Baldoria Il suo account Instagram Che è un ragazzo che fa le parrucche per le drag queen Io l'avevo trovato per caso E siccome io ho un progetto di fare uno spettacolo Che è Madame Quattesord Ecco Di Oscar Di Maio Di Gaetano Di Maio Ovviamente i diritti li possiede il mio amico Oscar Di Maio Un giorno o l'altro io lo convincerò a darmi i diritti Per fare questo spettacolo E che è uno spettacolo che hanno fatto delle grandissimissime Allora io ho chiesto a questo ragazzo che fa le parrucche Tu cominciami a fare la parrucca Che io poi un giorno faccio E come mi sono cominciato a comprare pure la pelliccia Che un giorno faccio lo spettacolo Ovviamente la pelliccia ecologica ci mancherebbe altro E peluche E peluche rosa Quanto ti diverte Fabio trasformarti e trasformarci Un sacco Mi diverte moltissimo E la cosa che mi diverte di più Tanto di teatro qua non si arricchisce nessuno E su questo non c'è dubbio In realtà oggi nemmeno di televisioni oserei dire Ma almeno ci dobbiamo divertire Questa formula che noi abbiamo trovato a teatro Che non ce la siamo c'è Non me la sono certo inventata io E con tutto il rispetto per i legnanesi Cui sicuramente in qualche modo ci ispiriamo Non l'hanno inventata nemmeno loro Essere tutti maschi a teatro È una cosa che risale al teatro elisabettiano Ma ci sono esempi ancora prima nel teatro greco Per cui E poi voglio dire il mondo del teatro E anche Salemme In Di Mamma ce n'è una sola Interpretava il ruolo femminile Anche che ne so Per non parlare di Peppe Barra Di Mastelloni Di tantissimi straordinari attori Che hanno interpretato fior fior di personaggi femminili Avere tutta la compagnia che lo fa Mi crea un divertimento enorme Perché ogni volta il costume La parrucca, il trucco La caratterizzazione del personaggio Insomma ci divertiamo molto Poi è il fatto che tu riesci Allora Fabio Bressa È uno di quei rompi Durante le prove Un po' così Un po' così Però ho trovato in poche persone Te lo dico proprio col cuore Il fatto che tu ti prendi cura Di ognuno di noi Quasi a tutelarci E questo è molto bello Ma sai quando tu fai uno spettacolo Con 15 attori in scena E sei bravo solo tu E non hai rotto le scatole a nessuno Non sei arrivato da nessuna parte Tu devi avere intorno a te Così come mi hanno insegnato I grandi con cui ho lavorato Una struttura Che non dico che debba essere meglio di te Ma anche sì Assolutamente Perché ti deve sostenere Perciò dobbiamo essere tutti allo stesso livello Tutti bravissimi Ed è per questo che bisogna curare ogni attore E metterlo a suo agio Per quello che meglio riesce a fare E vi aspettiamo al Teatro Trianon Viviani Ancora fino a domenica prossima Esatto Con Tre pecore molto viziose Due parole su Tre pecore molto viziose Allora Tre pecore molto viziose È un testo molto leggero È un testo molto divertente È molto leggero Noi lo abbiamo trasformato un po' In questa famiglia Adams comica Questa zia sanguinaria Che sono io E questa famiglia di gente totalmente sottomessa Le mie nipoti Mio marito Mio fratello Mio nipote acquisito I due servi di casa E queste tre ragazze Che non sanno Che si incontreranno Con tre uomini sposati E da lì succederà tutta una Qualcosa Dovete solo venirlo a vedere È molto divertente È molto comico D'altro canto Io lo dico sempre A me Gli spettacoli dove si sorride Non mi piacciono Lo spettacolo comico È lo spettacolo dove Rischi la colica renale È lo spettacolo drammatico È lo spettacolo dove Rischi l'infarto Quindi per me Le vie di mezzo L'infarto no Ma la colica è successa Ma la colica è successa Cos'era Ma che favola Era uno spettacolo Di tanti tanti anni fa E ci fu All'inizio del secondo tempo Si apre il sipario E io vidi una fila intera Eravamo al teatro Bracco Di Napoli Vidi una fila intera Vuota E c'era il teatro pieno Anche in galleria Al che mi feci chiamare La mascherina Dietro le quinte E disse Ma che è successo Una fila di spettatori Se n'è andata Ma non gli è piaciuto Il primo tempo Avevamo avuto Un successo incredibile E mi fa no Quello uno di loro Per ridere Ha avuto una colica renale Erano tutti amici E stanno i pellegrini Tutto quale Che verrà vicino Tutto aveva anche questo Tra altre cose Ha avuto la soddisfazione Di avere sul palco Michele Placido A Natale Insomma Al teatro Troisi Ha detto delle cose fantastiche Si Michele Il maestro Placido È stato proprio carino Io sono il direttore Del teatro Troisi di Napoli Ho fatto una stagione Che cercasse di accontentare Tutti i gusti Perché non è vero Che ti ringrazio Non è vero Che la gente vuole solo ridere La gente vuole vedere Del bel teatro E Placido È senza dubbio Uno dei più grandi Attori italiani Forse a oggi Il più grande attore Italiano vivente Che abbiamo Insieme forse A Giancarlo Giannini E quindi Della loro generazione Intendo dire chiaramente E quindi Era importante E lui è stato molto carino E poi è nata Questa amicizia Questo sodalizio Mi manda i whatsapp Vocali Guarda le mie stories Le commenta Insomma è nata una cosa Che credo Stia per svilupparsi Adesso Incrociamo le dita Vediamo che succede Che cosa vorresti pubblicare domani Concludiamo Il prossimo romanzo Perché il mio editore A cui chiedo scusa Aldo Aldo caro Ti chiedo scusa Perché avevamo degli accordi Che dovevo consegnare a Natale Siamo ormai Quasi a marzo E ancora ho consegnato E però insomma Adesso finiamo col teatro Mi ci dedico seriamente E quindi aspettiamo la copertina Del tuo prossimo romanzo Che si intitolerà E lo sapete per primi Lilium Ah E ce lo verrei a presentare Bene Grazie Fabio Grazie a voi di averlo studiato Noi aspettiamo il teatro Ci fermiamo per qualche istante E poi ci salutiamo Fabio Bressa Grazie a tutti Buona domenica